Negli ultimi 30 anni la depressione è entrata nella società, una malattia che prima non era ben conosciuta, oggi è conosciuta dalla maggior parte delle persone. Oggi si riconoscono i pazienti depressi, i pazienti depressi vanno dal medico di base, vanno dallo psichiatra, come vanno quando hanno qualsiasi altra malattia. Le persone hanno capito che non si tratta di una debolezza, che non si tratta di una scelta, ma si tratta di una malattia che può e deve essere curata. Hanno anche saputo, e noi stessi ce ne siamo compiaciuti, che mano a mano che abbiamo avanzato nella ricerca abbiamo sviluppato farmaci sempre meglio tollerati. Il trattamento della depressione, sia farmacologico ma anche psicoterapico, è migliorato nel tempo, nel senso di avere trattamenti sempre più mirati alle esigenze di una singola persona, sempre più tollerati e dunque la depressione rimane una malattia grave, altamente invalidante, una malattia con un altissimo carico di sofferenza, ma è anche una depressione che negli ultimi trent'anni, una malattia che negli ultimi trent'anni abbiamo imparato a curare sempre meglio con un prezzo sempre più basso in termini di effetti collaterali o costi che lo stesso trattamento imponeva in passato, per esempio dal punto di vista farmacologico con prescrizione di farmaci che risolvevano le alterazioni dell'umore, ma determinavano tutta una serie di effetti collaterali che erano relativamente pesanti.